Buongiorno, oggi vi voglio dimostrare il funzionamento di questo svettatoio telescopico il quale consente la potatura di rami da piante da frutto ornamentali che siano e ha una media quota e in maniera molto agevole. L'attrezzo è molto versatile come si può vedere ha un manico telescopico che può raggiungere comodamente l'altezza di 4 metri, inoltre presenta una testina di taglio in cui è possibile regolare l'angolo di inclinazione in tal modo io posso tagliare i rami nel punto esatto di inserzione degli stessi. Il taglio è molto semplice e con un minimo sforzo è possibile effettuare questo tramite il manico stesso come si può vedere impugnando il manico stesso è una semplice manovra possibile tagliare effettuare il taglio. Ecco adesso vediamo proprio in pratica come è possibile tagliare i rami ecco questo vedete ho tagliato in maniera molto semplice con un minimo sforzo poi lo aggancio eventualmente ecco e lo tiro e lo tiro giù. Se è a lungo il manico posso andare invece ad altezze superiore per esempio questo ramo qui ecco vedete ecco come è tagliato in maniera molto agevole abbastanza precise ma posso fare ancora meglio il diametro massimo consentito è intorno a 30 35 mm ma molto dipende diciamo dalla dal tipo di legno è chiaro che se io mi trovo di fronte a un ramo secco il diametro di taglio diminuisce rotevolmente. Vedete un altro esempio come è possibile arrivare a questa quota che consente la potatura degli altaci senza l'ausilio di scale e in maniera abbastanza attievole. Ecco qua. Ok credo che come dimostrazione possa abbastare. Se potuto capire dal video come sia veramente facile e comodo eseguire la potatura degli alberi fino a una certa altezza.